Non aver paura. Dio dice non aver paura. Dio dice non aver paura. E il brano gitano usato a Ponzano per l'ultimo saluto a un levac. Funerale oggi al centro di polemiche perché blindato dalle forze dell'ordine che su disposizione prefettizia sarebbero state deviate da Arcade per il timore effetto a Casamonica versione trevigiana. Dura la replica dei Rom, menzogne, siamo stati noi a volerlo spostare perché volevamo stesse in mezzo agli altri suoi cari istinti. Così la zia Una Udurovic presente all'eseque e che ci accompagna nel tragitto di poche ore fa. Il nostro nepote carissimo che è cresciuto con me. Per questo motivo l'abbiamo portato qua. Non per motivi di altri che stanno dicendo delle favole. Per la Dio di Ponzano come a Roma petali di rosa ma sparsi per terra. Le abbiamo buttate per terra come tante volte. Anche quanto è morto mio marito le abbiamo buttate. A San Lázaro abbiamo cominciato. Fiori oggi ancora visibili fuori dal cimitero. Seguiamo le volontà del congiunto, dicono i Rom. Abbiamo fatto tanti funerali con più belle cerimonie di questa perché era desiderio di questo uomo fare così. Però se questo uomo chiedeva carrozza, chiedeva elicoptero noi eravamo più di 200-300 parenti stretti. Si faceva una collezione e lo facevamo su Ultimo Desiderio. Nessuno non ce lo poteva provire perché Ultimo Desiderio. Di seguito il pensiero della portavoce degli zingari trevigiani su Roma. Di quelli Casa Monica avranno qualche precedente. Io non lo dico che sono signori, proprio signori, ma sono gente buona. E hanno sardito desiderio di loro padre. Hanno fatto di tutto, hanno fatto raccolte perché sono centinaia, centinaia di parenti. Nessuno può imporci di rinunciare alle nostre tradizioni, il pensiero conclusivo dei Rom. Noi facevamo le domande a Perfetto e Perfetto ci doveva obbligare Ultimo Desiderio.